Buonasera, buon inizio di settimana. Ancora 800 contagi e i ricoveri che tornano a salire. Negli ospedali piemontesi ci sono 17 persone in più rispetto a ieri. Sono in tutto 261 i ricoverati. Ieri erano 244. Di questi 261 la maggior parte, 253, sono nei reparti ordinari e 8 si trovano nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore c'è stato anche un decesso e per quanto riguarda Novara sale a 13 il numero dei ricoverati all'ospedale maggiore, dei quali 7 in terapia subintensiva e 6 in malattie infettive. Sono invece 9 i ricoverati all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. La situazione è tutto sommato sotto controllo. Ed ora voltiamo pagina e parliamo dello stato di salute del settore terziario e del commercio. All'ASCOM, l'Associazione Commercianti di Novara, resi noti i dati dell'ultimo studio. Piemonte Nord, un tessuto imprenditoriale in cambiamento. Il 2021 si presenta come un anno in parziale ripresa per il sistema economico del Piemonte Nord, anche se le ripercussioni dovute alla crisi pandemica continuano a farsi sentire. Il tessuto imprenditoriale nel suo complesso registra una crescita del più 0,1% rispetto al 2020 e l'apporto di più 98 unità locali. Nel totale dell'economia delle quattro province dell'area, anche se l'andamento di questo 21 è stato altalenante, evidenziano una prima parte dell'anno in forte aumento e un secondo semestre in calo. Si tratta comunque di un risultato incoraggiante. Dopo il lungo periodo di flessione che ha visto le aziende del territorio ridursi ad un tasso medio del meno 2,3% nei quattro anni precedenti, il bilancio è complessivo di meno 2.041 esercizi dal 2017 al 2020. I dati provenienti dall'archivio di un non-camere dicono che il miglioramento è per il sistema terziario, più 0,3% che continua a mantenere la maggior consistenza di imprese a fine anno, inglobando il 64,1% delle realtà imprenditoriali del Piemonte Nord. Nell'area si contano un totale di 54.456 localizzazioni terziarie attive, per la maggior parte distribuite tra i comparti dei servizi e del commercio. Nel corso del 2021 sono più 175 quelle che si aggiungono allo stock precedente, per la maggior parte collocate nell'area orientale del territorio, delimitata dalle delegazioni dell'Ossola e di Novara. Si tratta di unità locali secondarie di aziende con sede esterna alle quattro province, in aumento del 2,5% nel territorio, più 174 unità. Un fenomeno che ha avuto un espload in questo 2021, ma che prosegue oramai da diverso tempo. Così come continua, d'altra parte, la trasformazione del tessuto imprenditoriale locale che negli ultimi anni ha visto un assottigliamento delle sedi di impresa. All'interno dello scenario il comparto risultato maggiormente in difficoltà in quest'ultimo anno è sicuramente quello del commercio, dove si evidenziano bilanci negativi in entrambe le variabili d'esame, sia le unità locali, sia gli imprenditori. A soffrire di più sono state le attività all'ingrosso, a fronte di una sostanziale stabilità di quella al dettaglio, più incerta la situazione nel turismo, dove sebbene le aziende del settore continuino a registrare un trend in crescita, si evidenzia un ennesimo assottigliamento della classe imprenditoriale, in particolare nell'ambito ristorativo il più colpito in questo biennio dalle misure di contenimento del virus adottate dal governo. L'unico comparto che possiamo definire solido, nella complessità del periodo che sta ancora oggi attraversando il paese e quello dei servizi, dove si osservano allo stesso tempo un cospicuo aumento delle imprese e uno più contenuto degli imprenditori. Ed ora le immagini di un incidente avvenuto nei giorni scorsi in pieno centro a Novara, nella zona traffico limitato. L'episodio poteva andare molto peggio. Un giovane a bordo di un monopattino è stato investito da un'auto. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso del comune. State vedendo alcune immagini. Fortunatamente il giovane non ha riportato gravi ferite, ma l'invito da parte dell'assessore alle sicurezze del comune di Novara è sempre quello di prestare la più alta attenzione, a prescindere dal mezzo utilizzato, a tutela di se stessi e degli altri utenti della strada. A tutti coloro che utilizzano il monopattino, il comune di Novara, in particolare l'assessore alla sicurezza, consigliano l'uso del casco, anche se non obbligatorio per legge. Ed ora andiamo nel Vercellese, dove da Roma sono arrivate buone notizie per quanto riguarda i comuni sedi di impianti nucleari. Buone notizie che riguardano le compensazioni economiche. Dal palazzo della provincia di Vercelli, dove ci troviamo, arrivano ottime notizie. Arrivata infatti l'11 giugno una sentenza della seconda sezione del Tribunale Civile di Roma, con la quale viene riconosciuto al 100% il diritto del territorio vercellese di ottenere i risarcimenti previsti dalla legge Scansano, una legge a favore dei soggetti pubblici che ospitano centrali nucleari oppure impianti del ciclo del combustibile nucleare, situazione che rispecchia esattamente quanto accade in provincia di Vercelli. La sentenza annulla l'interpretazione della legge finanziaria del 2005, con cui lo Stato aveva deciso di decurtare tali compensazioni addirittura del 70%. Si fa presente che questo è soltanto un primo passo verso il riconoscimento di un diritto di questi territori, ma sicuramente da molta forza alla provincia di Vercelli che si era attivata in questo senso. Dagli uffici provinciali fanno sapere che le cifre che potranno arrivare sul territorio saranno cifre molto importanti che l'ente provinciale metterà a frutto con delle azioni concrete, visibili a favore dell'ambiente e della vivibilità di questi territori. La strada per ottenere i fondi, come dicevamo, ancora non è conclusa e quindi ci sono buone speranze che il territorio venga risarcito. Restiamo in provincia di Vercelli. Fondazione Valsesia e Confindustria unite per collegare la scuola valsesiana alle esigenze del mondo produttivo locale. Sentiamo. Lanciato da un mese, il progetto Lancia Fab Lab vede la collaborazione tra Fondazione Valsesia e Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Responsabile per la Confindustria è Riccardo Cavanna, per Fondazione Valsesia Laura Cerra, la presidente. Di che si tratta? È un progetto di cui noi siamo veramente orgogliosi. È un progetto rivolto alle scuole e una raccolta fondi per cinque diversi indirizzi scolastici. Abbiamo iniziato con l'Istituto, con l'ITIS e con l'IPSIA per i corsi Moda, Legno, Meccatronica e Chimica. Sempre ITIS e IPSIA di Borgosesia. Di Borgosesia, proprio indirizzato a acquistare attrezzature per rendere sempre più competitivi questi corsi e per realizzare dei corsi di aggiornamento per i ragazzi e per gli insegnanti, proprio per dare un'offerta formativa di alto livello a favore soprattutto delle industrie del territorio che cercano sempre di più delle figure specializzate e quindi questo va estremamente a favore dei nostri ragazzi. A proposito di scuola, vi parliamo di un video sull'Europa e di un premio regionale per la scuola FAUSER. Piaggia di premi al FAUSER di Novara, 11 studenti della classe quarta all'indirizzo informatica, sono risultati tra i vincitori di tre concorsi indetti per le scuole dal Consiglio regionale del Piemonte e sono stati premiati presso il Salone del Libro di Torino. Manuele Ferro, Alessandro Mili, Davide Di Matteo, Simone De Santi, Spallo Solmirago hanno realizzato un video per la 38esima edizione del concorso intitolato Diventiamo Cittadini Europei, trattando il seguente tema. Nonostante i molti passi avanti fatti nel corso dei decenni, la percezione pubblica dell'Unione è spesso accoppiata all'immagine della lontananza. I processi decisionali europei sono diffusamente considerati distanti dai cittadini. Condividi questa percezione? Quali sono gli strumenti di partecipazione democratica a disposizione dei cittadini europei? Ecco un estratto del video. Tra i diritti presenti nel titolo primo della Costituzione italiana ci paiono particolarmente importanti quelli di libertà nelle sue varie forme. Tra questi, discutendone tra noi, abbiamo scelto di approfondire la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza. Si tratta dei diritti che furono a lungo dibattuti nell'Assemblea Costituente, come si può vedere nei materiali presenti sul sito del Quirinale. In effetti, la libertà di comunicare esiste solo se siamo certi che essa avvenga in modo privato. Ma cosa succederebbe se questo diritto non venisse rispettato? In passato, durante il ventennio fascista, quando ogni opposizione era temuta e impedita, anche la corrispondenza privata era controllata. Abbiamo potuto vivere la storia della cameriera Maria Mora attraverso un fascicolo dell'archivio di Stato di Novara, proveniente dalla Questura di Novara. Dagli inizi del Novecento agli anni Sessanta sono conservati 1994 fascicoli di persone pericolose per la sicurezza dello Stato, il 66% dei quali risalgono agli anni della dittadinanza. Unione Europea, una comunità economica e politica composta da 27 Stati. Abbiamo indagato su quanto le persone si sentano effettivamente vicine ai suoi organi, intervistando persone nella nostra città per sapere la loro opinione. La prima domanda che abbiamo posto è stata ti senti vicino all'Unione Europea? Io potrei essere anche vicino agli organi dell'Unione Europea, ma ho la sensazione che questi organi siano inefficaci nelle decisioni importanti. Ma dipende da Stato a Stato. Diciamo che l'Italia non promuove tanto, soprattutto per i ragazzi normali come noi che uno dice non so dove andare o che diciamo che l'iniziativa deve venire da te per approcciarti a cos'è lui e tutti gli annessi, insomma. Alla luce di queste risposte c'è soltanto spontanea una domanda. Sai se esiste un modo per comunicare direttamente con l'Unione Europea? No, non lo so. Lo presumo, ma non ho mai fatto, non ho mai preso visione di questo organo di partecipazione. Restiamo in tema scuola e vi parliamo di arte con una mostra all'Istituto Castelli. La mia presenza qua in questa esposizione sta a testimoniare il lavoro svolto da un gruppo di ragazzi che a mo' di esperimento hanno partecipato al laboratorio di arte con l'artista Antonio Toma. Il laboratorio ha avuto una finalità particolare di far apprezzare innanzitutto l'attività che viene definita arte, lavorare con i colori e trarre dall'artista in particolar modo l'empatia per poter affrontare questo percorso che è stato per loro molto importante e dico anche gioioso tra le righe. Ma al di sotto dell'esperimento a noi serviva monitorare l'effettiva reazione che porta questo laboratorio nei confronti dei ragazzi. Devo dire che i ragazzi sono al giorno d'oggi, i nostri adolescenti, hanno tante piccole difficoltà che noi definiamo problematiche. Una parte la problematica di relazione, una parte saper comunicare le proprie emozioni, una parte anche sapersi rapportare con l'ambiente, dimostrare le proprie capacità che a volte sono nascoste da altre difficoltà. Devo dire che il risultato è stato eccezionale, eccellente e questo risultato ci conforta nell'inserire questa pratica nel futuro percorso della scuola che il centro sta proponendo questa sera, una scuola di taglio europeo. E quindi una scuola che tiene in conto delle potenzialità e delle difficoltà di tutti i ragazzi. Una scuola che vuole accompagnare tutti al traguardo che è quello di diventare grandi. Cambiamo argomento, aperte le iscrizioni al corso base di LIS, il linguaggio dei segni. Mi chiamo Stefania Natalicchio e sono docente nazionale di lingua dei segni italiana LIS. Vorrei proporvi un corso base di sensibilizzazione al mondo e alla cultura delle persone sorde, imparando alcuni segni della LIS. La modalità di esecuzione del corso si sviluppa attraverso il canale visivo-gestuale, migliorando l'attenzione visiva e la manualità fine. La lingua dei segni sarà come un gioco applicato alla realtà. Tutto il corpo si trasforma in un palcoscenico, su cui vengono rappresentati dei contenuti, con le braccia, con le mani, con il capo e con l'espressione del viso. Vi ho incuriosito? Allora potete frequentare il corso online tutti i martedì e i venerdì dalle 18 alle 20, a partire da martedì 21 giugno fino a venerdì 22 luglio. Per qualsiasi informazione potete iscrivermi con un'email a natalicchio.stefania.gmail.com oppure telefonarmi al 338-68-98-602. Ciao! Ed ora vi parliamo di un evento online per i maturandi in programma domani sera. L'Ufficio Scolastico di Novara organizza in occasione degli esami di maturità 2022 il 21 giugno alle ore 21 l'evento online notte prima degli esami. L'iniziativa è la sua terza edizione ed è stata promossa durante l'emergenza Covid e vuole ancora oggi essere un momento di supporto e di sostegno per gli studenti che affronteranno l'esame nella forma classica o vecchio stile con due prove scritte, una di italiano e l'altra di indirizzo più una orale. Online ci saranno le testimonianze del proprio esame di maturità da parte di stakeholders territoriali, rappresentanti istituzionali, psicologi, psicoterapeuti, dirigenti scolastici e poi studenti universitari o mamme e papà che ricorderanno il loro esame una delle tappe fondamentali nella formazione individuale di ciascuno. Ed ora a trecate dove sabato sera in una notta discoteca si è svolta la gara regionale di primo soccorso organizzata dalla Croce Rossa locale e a seguire il famosissimo DJ e produttore discografico Giorgio Prezioso ha intrattenuto i presenti. Sentiamo il gestore del locale. Faccio parte del Comitato Nazionale Sib quindi ho la qualifica come presidente Novare Provincia VCO rappresento le discoteche adesso parlo in qualità di gestore dopo due anni di chiusura siamo partiti con due nuovi format il primo format è praticamente una pericena che è aperta a tutti abbiamo creato una zona per i bambini abbiamo cercato di creare un grosso evento questo evento di stasera per esempio all'estimento della Croce Rossa e successivamente apriamo il locale come club e stasera c'è stato un grandissimo DJ il fama nazionale che è Giorgio Prezioso ringrazio ancora tutti per la collaborazione e la Croce Rossa ed ora ascoltiamo le parole del DJ Giorgio Prezioso che cosa hai proposto stasera? ho proposto un po' di tutto musica nuova le mie nuove produzioni Thunder, Hurricane, Shooting Darts i classici che non possono mancare Tell Me Why, Let Me Stay più qualcosina di italiano anche e anche qualcosa di più spinto questa discoteca è una delle discoteche più storiche d'Italia mi hanno dedicato anche una canzone gli 883 io ci sono sempre venuto sia negli anni 90 adesso comunque è stato un piacere ritornarci tutti sei avvicinato al mixer da giovanissimo dagli anni 80 finora che cosa hai visto di differente? cosa è cambiato nel mondo musicale? beh è cambiato tutto praticamente adesso la musica si fa in casa basta avere un computer prima bisognava andare in studio spendere soldi e in più anche l'attività da DJ è cambiata prima bisognava comprare i vinili adesso diciamo si gira solamente con USB una chiavetta con musica comunque comprata ha sicuramente meno costi rispetto a prima fare DJ come è nata la tua passione per questo lavoro e per la musica? allora diciamo che all'inizio è stata tramandata da mio zio che lavorava in una radio di Roma Radio Lazio e quindi noi il pomeriggio andavamo io e mio fratello andavamo lì a vederlo e poi lì il passo è stato quello di entrare in una mega discoteca come era il Matchmore di Roma comprare la prima console i primi giradischi chiudersi in casa e poi da lì insomma l'ha iniziato tutto nel tempo libero se ce l'hai che cosa ti piace fare e cosa fai? faccio sport pilates poi cammino parecchio che mi rilassa vado a fare delle lunghe camminate da solo tra l'altro sempre i stessi posti faccio quindi se vedete uno che gira di solito una mattina vado e diciamo che questo lavoro mi impegna comunque tutta la giornata perché quando non faccio la radio sono in studio quando non sono in studio faccio le serate quindi non è che abbia così tanto tempo per dedicarmi ad altri ed ora lo sport la Ticinia Novara del presidente Daniele Coloniesi si è laureata campione d'Europa nel football sala ed è stata premiata a Monte Carlo dal principe Alberto di Monaco restiamo in tema perché è proprio sabato sera un'altra squadra del presidente Coloniesi il Novara 4 Special è stata premiata al primo gran galà dello sport novarese per aver vinto il campionato italiano di calcio paralimpico una rappresentanza della Novara 4 Special è questa sera alla prima edizione della gran galà dello sport di Novara avete vinto il campionato italiano è un'altra rappresentanza invece volata a Monte Carlo per disputare la Champions League sì una grandissima impresa dopo l'ultima edizione siamo arrivati terzi con molti rimpianti stavolta abbiamo portato a casa il titolo meritatamente direi non abbiamo mai preso un gol in tutto il campionato in tutta la stagione e anche oggi abbiamo chiuso tutto con la porta inviolata i ragazzi sono stati meravigliosi e non so cosa dire sinceramente oltretutto anche un'altra nostra squadra in seconda divisione si è piazzata al secondo posto per cui un trionfo quest'anno veramente un grandissimo trionfo domani probabilmente anche con la società con i ragazzi normodotati abbiamo la finale di Champions League primo e secondo posto ci siamo già qualificati per cui potrebbe arrivare ancora una grandissima notizia cosa dire noi vinciamo vinciamo tanto ed è bellissimo questo soprattutto per i ragazzi che hanno avuto una grandissima soddisfazione oggi è tutto grazie per essere stati con noi buona serata con i nostri programmi